Salve, salve da Marco Calabro per conto di Amaci Casa Italia. Ci troviamo oggi a Roma da Spazio Design in via Cristoforo Colombo 448. Stiamo vedendo un prodotto che già conosciamo nelle pagine di Amaci Casa Italia. Il prodotto si chiama Allegra ed è dell'azienda Stosa Cucina. Il prodotto si caratterizza in questo caso è un prodotto laccato, noi l'abbiamo già visto in una versione laminata per esempio. Questo è un prodotto che si caratterizza innanzitutto per le gole. Le gole sono questi spazi che abbiamo fra il piano e le basi. Questa gola sostanzialmente ci funge da maniglia, cioè ci permette di prendere il prodotto, di afferrare il prodotto. L'azienda ci propone questo prodotto, l'Allegra, che è un prodotto di riferimento oggi del mercato italiano e del design. abbiamo avuto anche modo di fare dei video di questo prodotto all'esterno. Grazie sempre per seguirci su Amaci Casa Italia e arrivederci al prossimo video.